You make me feel invincible I feel, I feel it Invincible I feel, I feel it Invincible Salve a tutti e bentornati su Overfoodish con il consueto appuntamento sullo spacelo più totale Che cos'è? Perché c'è cattura la bandiera competitiva? Che cos'è? Cioè, ti danno i punti? Sì Penso di sì Ma noi non ne abbiamo bisogno Cioè, io la dorata me la sono già presa, che c'è frega Io ancora no Ma tu, alla fine non ti serve subire, non essere avare Io ho voglia di fare mercy ma proprio... No Cacciatore E' un sacco che non lo so già Ho preso qualcuno a te cazzo un po' Ah, vero Che ora me l'hanno nerfato Già No, ma mi passa la voglia Adesso recuperate la vostra bandiera Me l'hanno nerfato Giangra Adesso devo fare il cecchino con le concassi perché non ammazzo nessuno Dio mio So per prendere la bandiera Ai la... Ai... 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 E' stata riportata alla base Ah... Esatto Ah, esatto Eh... Dio mio volere Non posso dire male Esatto Non mi sento molto... Dove c'è? Dove c'è? Dove c'è? Spera, facciamo un'altra cosa là Scusa, non mi va proprio La vostra bandiera è stata riportata alla base La morte cammina tra bui Non sono riuscita a prendere la skin del demone giapponese di Ryder Mi hai fatto cacare sotto, te lo giuro Non è solo che passa da fare Se non si vuole far segare malissimamente, no? Il neico ha preso la vostra bandiera Si difendete che io sono nel loro Ho preso la nostra bandiera Recuperate la vostra bandiera Hai la bandiera Hai la bandiera 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 Apperti, neico Recuperate La vostra bandiera Guarda, no Il neico Recuperate Il neico Guarda Era un reaper Anch'io stavo tentando di rubare la bandiera come reaper C'è della finità C'è della finità Abbiamo anche la stessa skin quindi potremmo confondere riporto la passiera è stata riportata alla base hai la mia gratitudine prego cara oh fatti mi direi un po dalle bale ma tanto c'è solo punta esatto per quello detto re esatto no 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 lasciamo di base la vostra la vostra squadra ha lasciato cadere la vostra la vostra squadra un'altra volta dai dai che siamo qui per portare tutto sul posto possibile immaginabile bello che io li sto tenendo occupati la vostra squadra ha lasciato cadere la barriera ecco lo sapevo no ciccio sono stati che chiuso da una vita addio senti io t'ho preso da due centimetri in faccia eh la vostra bandiera adesso te la faccio io la ulti eh che palle ma dai ma pregate un dio pagano fate qualcosa fate un sacrificio dio mio fatela qualcosa e ci ho sprecato anche una ulti per pulire un po' nooo no cecchino brutto cecchino brutto e cattivo quando arrivo a prendere la bandiera c'è il mondo che mi assale ah no può scendere qua non sto allevando niente da queste due mancano sessanta secondi guarda che io quella moera mi scappato un po' dardo gli eroi non muoiono mai gli eroi non muoiono mai allora io non sono un eroe addio bellino il rodog demoniaco io ho adesso il il mio palico il mio micetto di monster hunter che è diventato un demone praticamente la vostra squadra ha la bandiera la vostra squadra ha lasciato cadere la bandiera nooo lo sai un palico in monster hunter è un simpatico micetto kawaii che ti aiuta a combattere le nostre no no è veramente kawaii te lo puoi anche personalizzare no però gli hanno messo la cosa che il palico può avere all'armatura no quindi quindi in pratica quando tu prendi un'armatura fighissima tipo di un drago enorme con la testa di drago eccetera il tuo palico che è una cosa kawaii diventa un demone assatanato una cosa assurda oh hai visto? si hai visto quello che è successo? si quando mi sollevano i più vicini si i miei giocatori che fanno attacchi ad aria in realtà io potrei usare moira in questa situazione farò una pallozza li becco tutti che cavolo 5, 4, 3, 2, 2, 2. Ah, quanto tempo. Allora, R1. Ecco le... Eee... Bu! Abbiamo già levato un filo di vita. Ah? Perché ha levato... No? Beh, qua che è successo. Non ho capito. Perché ho levato così tanto con Moira? Dai, però. No, no, no. Devo capire se hanno fatto una modifica a Moira. Sembravo levare più del solito. Vai, DIVA! Vai, DIVA! No! No! Addiva se gli rompi il meca gli casca la bandiera. La vostra squadra ha la bandiera. Yes! Non so come abbiano fatto, ma ce l'hanno fatta. Bravi ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Ho fatto io, eh! È fatto te, eh! Eh? Ho fatto io! Ho fatto io, eh! Quanti anni hai? Cinque! Brava, brava! Vai con la prossima! Guarda la vostra! No! Come è contenta di moire! Ehi, ahi, 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 ahi! La vostra squadra! La vostra squadra! Lascia cadere la barra! No! 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 Morici! No! Ho dimenticato che ho l'abilità, porca miseria! Recuperate la vostra bandiera! La donna come che è morta malissimo! è stata riportata alla base quasi quasi venga a prenderti vedi se ci muori oh mi hanno fregato la rica di costa no pensi no avevo la bomba io recuperate la vostra poi prendetela dio mio è a cinque millimetri da dove dovrebbe stare ma devo mettere l'eterno immettile mica te lo vieta la padiera i due ragazzi un po troppo aggressivi grazie per gli scudi arriva un bastion dall'alto ci temo un luce grazie attenta al bastion ma c'è la marasma qua sopra vai andy penso a città che io penso a quest'ana arrivo andy è finita di rompere le balle grazie che le use però durano troppo durano troppo no forza cadi una mese muori si è teletrasportata all'ultimo sta maledetta no ma perché spreco le ultime questa mania ma io faccio bene con le ultime ragazzi qualificare solo per il modo in cui io le ultime la cacchio di torretta è un problema no no non ce la faccio come tracer non ce la faccio assolutamente mancano 30 secondi non mollate la vittoria presto sarà nostra mancano 10 secondi madonna niente non ci si può entrare in questa zona qui allora ragazzi qua gioco in difesa ve lo dico eh guardate che è normale ma qua se non stiamo attenti ci vanno qui c'è il bastion devo prendere quel bastion esatto che bello fa il filtrista dio meno i tempi di metal gear che non faccio quanto cacchi dura oh non ci vanno anche a profuno la prenda pure un percorso sta arrivando un junkrat ah giusto in tempo ho preso le bombe a maledizia ah ma questa illuso qui che rompe le balle vai mettere andiamo insieme scusi posso saltare anch'io non è che sei la vostra la vostra squadra ha lasciato cadere la bandiera ritroffiamo bandiera nimica riportata alla base non uso che mi pigli a cazzo allora dove eravamo rimasti si si la vostra bandiera aiuto aiuto aspetta da un momento sono un tantino occupata a sterminare sto credo nooo io avevo tirato la bomba dai perchè non me la faccio tirare recuperate la vostra squadra madonna la povera commentatrice la vostra squadra ha lasciato cadere la bandiera sto pegato addio non hanno più il tank la vostra bandiera è stata riportata è stata riportata alla base hai la bandiera alle tue sono la bandiera bandiera a terra come a terra ha preso la vostra aiuto ce l'ha lì la bandiera e lo so ce la stavo portando io sconfitta ma com'è sconfitta ma hanno fatto un punto ah davvero me ne sono manco accorto scusa tra la commentatrice che ogni 3x2 fa la bandiera è avete la vostra squadra che cosa ci devo capire no no non sono per carità bella modalità eh però non è modalità per gameplay non è non è per farci video perchè è noiosa proprio noioso ragazzi mi dispiace di avervi sediato a questo modo vi ringrazio per avermi seguito finora e vi invito a seguirmi al prossimo episodio